Dal rodeo col toro meccanico al tiro alla fune, dal torneo di calcio alla sfilata delle contrade, molti ingredienti per una manifestazione ormai divenuta tradizionale per i losonesi e non solo. Bilancio sicuramente positivo per la festa svoltasi tra sabato e domenica nel grande prato adiacente alle scuole comunali alla quale hanno preso parte circa 4.000 persone e anche la quarta edizione del Paglio di Goss viene archiviata con successo. Per la cronaca, la contrada Arbigo-Gaggiole si è aggiudicata il torneo di calcio, quella di San Giorgio, la gara al tiro alla fune e i cowboy della contrada San Lorenzo sono stati i più bravi a domare lo scatenato toro meccanico. Ma se le contrade premiate sono state soltanto tre, sono ben otto quelle che si sono contese la vittoria nei vari tornei, si sono presentate al pubblico domenica mattina con una sfilata in costume, diversi i carri ispirati alle caratteristiche dei rioni, le cui vie sono state pure decorate per l'occasione. E' la terza volta in quattro edizioni che i giocatori della contrada Arbigo-Gaggiole vincono il torneo di calcio e con la vittoria ottenuta nella finale di domenica si sono aggiudicati definitivamente la Coppa. Da quest'anno il Paglio di Goss ha anche un nuovo presidente, Aldo Döring. Quanto ci si lavora prima per il Paglio, prima che ci sia il Paglio? Si può dire che abbiamo già cominciato l'anno scorso, quindi mesi, mesi, mesi di lavoro. Quest'anno abbiamo avuto anche il corteo, il magnifico corteo, che loro mesi, mesi di lavoro hanno fatto delle bellissime cose. Però abbiamo la fortuna di avere tanti collaboratori, più di cento, no? E le società sportive, le associazioni sportive e lo zone che ci danno una mano con la bivette e con tutte quelle cose lì. Diverse anche le manifestazioni che hanno fatto da contorno ai tornei, come la partita riservata ai giocatori di oltre 50 anni, il tiro alla fune con quattro squadre femminili e una singolare partita destinata ai bambini, ognuno di loro guidato da una madrina calcistica. Alla festa non è mancato il sindaco di Lozone Enrico Broggini, ecco come ci racconta la storia del Paglio e i suoi precedenti. Una festa come questa sta diventando prima di tutto una grossissima tradizione nell'ambito del nostro comune che cade in un giorno di grande significato, si dice digiuno federale, io preferisco chiamarla festa federale di ringraziamento. Ma è un caso che cada in questo giorno? Ma direi che non è un caso, anni fa, molti anni fa, già esisteva una piccola manifestazione che si svolgeva il giorno del ringraziamento. Poi la manifestazione è andata via morendo ed è rinata in una forma esplosiva, bellissima direi, quattro anni fa con la prima edizione di questo Paglio. Siete a questo Paglio da quest'anno, da una quindicina di giorni, ha anche un'associazione, quindi è qualcosa che lo ancora un po' di più alla realtà e alla continuità immagino, no? Qual è lo scopo? Ma la nascita di questa associazione che noi salutiamo con i migliori auguri ma anche con la migliore soddisfazione è primariamente quello di assicurare la continuità di questo Paglio. In precedenza il Paglio era organizzato da un gruppo di amici che con un immenso lavoro mettevano in piedi la festa. Adesso con questa associazione, alla quale io spero aderiscano molti interessati rosonesi, prima di tutto si garantisce, come dicevo, la continuità negli anni futuri. In secondo luogo si garantisce anche una trasparenza nella gestione. Tra i padri del Paglio, Franco Barloggio. L'idea di questa festa è nata così. L'idea del Paglio è nata da cinque persone che giocavano nei veterani dell'Osone e abbiamo pensato all'Osone manca una piazza dove si può trovarci e divertirsi, perché l'Osone è molto grande. Ho detto, facciamo un Paglio, sono un po' malato di queste cose, ho detto dove si può divertirsi, dove si può fare un po' di folklore. Siamo partiti con un lavoro per mille persone, sono arrivate due mila, da due mila sono arrivate a quattro. L'idea dei miei colleghi è stata quella di centrare i giochi, cioè giochi semplici, dove si fa venire la gente. Abbiamo pensato al calcio, un sport molto tradizionale. Poi mi fa piacere la prima volta, lo dico con piacere, che grazie al Paglio ben quattro società hanno già cominciato a lavorare insieme. E adesso, archiviata la quarta edizione, gli organizzatori pensano già alla quinta, con la certezza che la gente di Osone è sempre più con loro.